Io ti guiderò, nel continuo sarò accanto a te, i passi tuoi io condurrò, e poi sazierò la tua anima in buoni aridi, e forza sempre ti darò, come un giardino tu sarai, sempre annaffiato in ogni età, sempre nel sorgente tu sarai, e con gli acque non mancheranno mai. Io ti guiderò, nel continuo sarò accanto a te, i passi tuoi io condurrò, e poi sazierò la tua anima in buoni aridi, e forza sempre ti darò, come un giardino tu sarai, sempre annaffiato in ogni età, come il sorgente tu sarai, le cui acque non mancheranno mai. Io ti guido, io ti guido, come per tutti sarò accanto a te, come per tutti e sarò accanto a te, e per tutti i sarò accanto a te, e per tutti e anche a te che non mancheranno mai. A tutti è venerdì, ed è l'8 gennaio del 2021, e spero tanto che stiate vivendo bene questo inizio anno che ci riserva delle grandissime sorprese, delle grandissime novità, cose belle e questo lo dobbiamo credere con tutto il cuore perché otterremo ciò che crediamo se crediamo che arriveranno cose belle, arriveranno cose belle se crediamo che devono arrivare cose brutte non ci dobbiamo meravigliare se arriveranno allora stamattina volevo condividere con voi qualcosa dalla scrittura in Efesini Efesini capitolo 1 e il titolo come avete visto di questa piccola meditazione breve meditazione è da cosa dipende la tua conoscenza questo è un argomento che mi è venuto in mente l'altro giorno pensando e riflettendo chiaramente su questo argomento e volevo condividere con voi qualcosa di molto breve, di molto sintetico ma credo che ci farà molto riflettere quindi Efesini capitolo 1 dal verso 15 in poi Paolo che prega per questa chiesa bellissima in Efeso la chiesa si pensa fosse la chiesa più grande in assoluto del sud dell'Asia si pensa che questa chiesa avesse raggiunto senza avere locali figuratevi senza avere internet, senza avere nessun tipo di comunicazione multimediale abbia raggiunto qualcosa come 200.000 credenti che si riunivano nelle case che si riunivano nelle case quindi credo che dovremmo rivalutare sicuramente in maniera molto drastica e molto radicale anche il nostro concetto di riunirci nelle comunità che è sicuramente sempre qualcosa di buono ma il più grande sviluppo è sempre stato, che ci piacciono, è sempre stato nelle case dovremmo ritornare realmente a questo modello, il modello originale in realtà Efesini capitolo 1 dal versetto 15 in poi dice così Perciò anch'io avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché l'iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella piena conoscenza di Lui Quando noi parliamo della conoscenza fondamentalmente in maniera quasi automatica noi pensiamo alla conoscenza della scrittura, alla conoscenza della Bibbia di ciò che è scritto Anticamente, cioè all'inizio della Chiesa, non esisteva questo concetto, lo voglio ribadire non esisteva il concetto della conoscenza delle scritture perché non c'era la Bibbia, non c'erano versetti non si predicava la Bibbia, non si predicava all'Antico, il Nuovo Testamento perché non esistevano si predicava Gesù, si predicava il Vangelo del Regno e questo è molto importante per noi ricordarcelo perché può essere scontato ma in realtà quando ci andiamo a pensare, quando andiamo a riflettere a questo concetto chiaramente ci fa un po' di impressione perché la Bibbia non esisteva non c'erano libri di testo all'interno delle comunità o dei luoghi di preghiera o delle riunioni in casa e quindi si predicava semplicemente quello che veniva predicato dagli Apostoli quindi gli Apostoli non predicavano la Bibbia non predicavano l'Antico e il Nuovo Testamento non predicavano da qualche versetto loro predicavano Gesù e quindi quando si parla di conoscenza quando si parla di conoscenza la scrittura non parla della conoscenza delle scritture ma parla della conoscenza di Gesù della conoscenza di Dio della conoscenza basata sul rapporto personale ora perché questo video perché vorrei mettere l'enfasi su qualcosa se tutta la nostra conoscenza dipende in realtà dalla dottrina che ascoltiamo la domenica dal pulpito o da qualche predicatore online chiunque so sia quindi senza chiaramente senza fare critiche assolutamente me ne guarderei bene cioè da quelli che noi seguiamo io in questo momento sono online sono sui social sto predicando sto insegnando quindi vale per tutti prima di tutto per me se la nostra conoscenza è basata esclusivamente sulla dottrina quindi su quello che è scritto sui versetti eccetera eccetera allora siamo gonfi siamo molto gonfi Paolo dice la conoscenza gonfia ma è la carità è l'amore realmente che edifica quindi se la nostra conoscenza è basata semplicemente su quello che è scritto noi siamo su una strada sbagliata perché la conoscenza non dipende da ciò che è scritto la conoscenza dipende dalla rivelazione Paolo prega perché gli Efesini abbiano una piena conoscenza e lui ci spiega questa piena conoscenza da dove deriva la piena conoscenza non deriva dalla lettura la piena conoscenza quindi la piena come abbiamo parlato di questo argomento come voi sapete la parola conoscenza sia in ebraico che in greco significa letteralmente intimità ok quindi questa parola è stata utilizzata viene utilizzata ad esempio leggendo la scrittura molto spesso per definire il rapporto sessuale tra un uomo e una donna in maniera particolare tra marito e moglie quando l'uomo e la donna stanno insieme e hanno un rapporto insieme la Bibbia usa il termine conoscere quindi quando si parla della conoscenza non si parla di una conoscenza mentale ma di una conoscenza esperienziale parla di una conoscenza che si ha attraverso un rapporto personale e qua cade naturalmente tutto il concetto della conoscenza basata sulla scrittura quindi la vera conoscenza non l'abbiamo attraverso la lettura l'abbiamo attraverso un rapporto intimo con lo Spirito Santo Paolo ci insegna che la vera e piena conoscenza viene attraverso la sapienza e la rivelazione io prego il Dio del Signore nostro Gesù Cristo il Padre della Gloria affinché vi dia lo Spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di lui ripeto se la nostra conoscenza si basa esclusivamente sulla dottrina che sentiamo predicare o sui versetti che noi leggiamo che impariamo a memoria noi siamo gonfi se siamo gonfi rischiamo di esplodere la vera conoscenza avviene attraverso un rapporto personale intimo con lo Spirito Santo dico questo perché molto spesso quando la nostra conoscenza dipende da quello che altri ci insegnano significa che la nostra conoscenza viene indotta viene direzionata incoraggiata verso una direzione quindi io conosco Dio sulla base di quello che mi viene detto sulla base di quello che mi viene insegnato sulla base di quello che leggo ma anche quello che leggo può essere disponibile ad ogni tipo di interpretazione vorrei ricordare che la Bibbia che oggi leggono i cristiani ha dato adito a 42.000 ripeto 42.000 denominazioni oggi esistenti nel mondo ci sono 42.000 denominazioni cristiane oggi nel mondo quindi è chiaro che la Bibbia non può essere il filo a piombo sul quale possiamo agganciare la nostra fede e la nostra vera conoscenza perché chiaramente ogni predicatore insegna qualcosa ogni testa è tribunale si dice dalle mie parti a Catania in Sicilia e quindi è chiaro che la vera conoscenza che io posso avere che io devo avere non può dipendere da quello che gli altri dicono da quello che gli altri insegnano ma deve dipendere da un mio rapporto personale con lo Spirito Santo ci sarà qualcuno che ti scoraggerà nel senso che ti dirà non puoi conoscere da solo o da sola lo Spirito Santo perché tu devi avere sempre qualcuno che ti insegna devi avere una comunità eccetera eccetera questo è falso naturalmente è falso chi ti dice questo chiaramente vuole cercare in un modo o in un altro coscientemente o inconscientemente di controllare la tua vita ma la nostra vita deve essere controllata e guidata esclusivamente dallo Spirito Santo è importante andare in comunità certo lì dove troviamo la nostra ci troviamo bene dove stiamo bene insieme ad altre persone dove troviamo un ambiente familiare chiaramente è importante avere dei gruppi avere delle delle forme di aggregazione dove possiamo anche condividere le nostre problematiche chiedere preghiera lasciarci curare eccetera eccetera ma questo mai a discapito della nostra libertà personale mai e mai a discapito della rivelazione personale che ognuno di noi può avere ognuno di noi deve necessariamente assolutamente avere un rapporto personale con lo Spirito Santo dal quale ricevere sapienza e rivelazione perché esclusivamente da queste due cose la sapienza e la rivelazione arriva la vera conoscenza lo ripeto se la nostra conoscenza dipende soltanto dalla dottrina allora siamo nei guai perché Dio non è dottrina Dio è amore quando questa rivelazione entra nel nostro cuore allora noi siamo veramente liberi perché dico questo anche perché a volte si sente parlare tanto dell'unità dell'unità tra i credenti dell'unità tra le chiese e si dice sempre o si fa comprendere sempre che la vera unità è sulla base di quello che crediamo quindi se tu credi come io credo allora siamo uniti questo è falso la vera unità non è sulla base della dottrina la vera unità è un prodotto dell'amore l'unità è il prodotto dell'amore non è il prodotto della dottrina perché ripeto ci sono tanti modi come noi possiamo credere interpretare le scritture e quindi ognuno di noi è libero di fare questo nella misura in cui non va a invadere la coscienza della persona altru degli altri o delle coscienze altrui la vera unità è sulla base dell'amore Gesù ha detto è da questo che riconosceranno che siete veramente i miei discepoli da come vi amate gli uni gli altri e Gesù ci ha lasciato questo comandamento questo ultimo comandamento che non è l'undicesimo è l'ultimo proprio è quello che è sostituisce prende il posto e ingloba tutti gli altri comandamenti non esistono altri comandamenti la chiesa i credenti le persone non devono seguire i dieci comandamenti quelli appartengono a Israele appartenevano ad un popolo Gesù ci ha dato un nuovo comandamento che è l'unico assoluto che può governare e dirigere la nostra vita che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi io ti amo non perché la pensi come me ma perché prima di tutto mi è stato comandato e secondo devo trovare anche il piacere la voglia e il desiderio nel farlo questo chiaramente avviene con la crescita avviene con la rivelazione non con la dottrina perché per come è stato insegnato come ancora viene insegnato purtroppo se tu non la pensi come me puoi essere un mio nemico e quindi io devo stare lontano da te devo tenerti lontano e questo è esattamente il contrario di quello che Gesù ha insegnato Gesù non ha insegnato una dottrina Gesù ha insegnato il regno di Dio e il regno di Dio ha come fondamento l'amore incondizionato del padre se la nostra conoscenza si basa solo sulla dottrina o solo su ciò che è scritto noi siamo nei guai la vera conoscenza ha detto Paolo viene attraverso la sapienza e la rivelazione che ci vengono date dallo Spirito Santo ok una buona giornata a tutti quanti cresciamo nella conoscenza c'è una scrittura che viene utilizzata spesso ad esempio come per speculare su un argomento il mio popolo dice Osea il profeta Osea il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e quindi molti dicono vedi abbiamo bisogno della conoscenza delle scritture perché sennò il popolo perisce sennò moriamo quella scrittura di Osea non ha niente a che fare con le scritture oltretutto se andiamo a leggere il contesto perché è sempre buono leggere il contesto nel quale o dal quale tiriamo fuori un versetto delle parole o dei concetti quelle parole erano state indirizzate ai sacerdoti i sacerdoti conoscevano a memoria la Torah quindi la legge ebraica quindi non ha a che fare con una conoscenza letterale delle scritture Osea sta dicendo che il popolo stava perendo per una mancanza di intimità e di rivelazione di chi Dio era realmente perché la nostra morte spirituale non dipende dal fatto che non conosciamo la scrittura ma dal fatto che non conosciamo realmente il cuore e la natura del padre conosco tante persone che hanno una conoscenza straordinaria della scrittura ma sono morti dentro sono sterili sono aridi e hanno una vita piena di giudizio e di pregiudizio nei confronti di chi non la pensa come loro quando la nostra conoscenza dipende dalla rivelazione di chi lui è allora quella conoscenza ci porterà ad amare in maniera incondizionata ci manterrà in una condizione di stabilità costante e continua nella nostra vita una buona giornata a tutti quanti forse ci vediamo stasera perché forse faremo una bellissima riunione qui a casa in casa nostra e avremo alcune persone forse faremo una diretta chissà una buona serata buona giornata buona giornata a tutti quanti grazie